Oggi mi trovo in una location diversa dal solito, solitamente mi vedete con dei panorami bellissimi alle spalle, oggi mi vedete con delle bottiglie di gin, whisky e chi più ne ha più ne metta. Bene, oggi siamo all'interno di un fantastico locale che si chiama Club 29 a San Giovanni la Punta. Questo locale è un locale particolare perché ci troviamo all'interno di una villa del 68, oggi adibita al locale. I due soci che hanno avuto questa fantastica idea che si chiamano Santi Cappellani Gaetano Marletta vogliono lanciare un messaggio ben preciso e particolare. Hanno creato questo locale solo ed esclusivamente per un motivo, per i ragazzi, per i giovani e non solo. Tutti quelli che vogliono evadere dal caos, magari del centro storico, piuttosto che dalle discoteche, eccetera, eccetera. Creando questa situazione immersa nel verde e dando la possibilità di gustare dei drink veramente, veramente buoni e ve lo assicuro e di mangiare qualcosa di particolare e veramente buono anch'esso. Quindi io vi consiglio vivamente di fare un salto al Club 29, venite a bere un drink, a fare un aperitivo, a fare una pericena, insomma, tutto quello che volete. Venite con la comitiva, venite con la fidanzata o venite con la prima che passa. Io vi consiglio di venire con la prima che passa alla location, devo dire che è molto adatta. È veramente, veramente carina. Grazie a tutti.